Buonasera, buonasera da Onda Tg in apertura. La situazione delle scuole di Sulmona. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, si impegna a reperire fondi per i lavori. Stamane il vertice fra il governatore e il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Facciamo il punto nel servizio. La sicurezza sismica delle scuole è stata al centro stamane di un incontro fra il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che ieri con un'ordinanza selettiva, ha deciso di rinviare di una settimana l'inizio delle attività didattiche per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, eccetto quelle private. Il sindaco Casini, riferisce una nota della presidenza della giunta regionale, ha fatto presente che la struttura tecnica comunale sta procedendo a una nuova verifica dell'agibilità in tutte le 16 scuole cittadine e il lavoro sarà completato al massimo entro giovedì 15 settembre. Il presidente D'Alfonso ha chiesto al capo del Dipartimento per Repubblica della regione Abruzzo, Emilio Primavera, di dare supporto tecnico quantitativo allo staff del Comune e si è impegnato a riperire risorse per l'intervento di sistemazione puntuale ai fini della conferma dell'agibilità. Contestualmente nel tavolo nazionale convocato per redigere il progetto Casa Italia, D'Alfonso fa presente il dossier Sulmona per un adeguato programma di interventi, tenendo conto dello specifico storico dell'edilizia pubblica della città. Sulmona sarà uno di quei comuni che beneficirà nel prossimo futuro di un intervento importante sul fronte dell'edilizia scolastica, ha detto il sindaco Casini, che ha ribadito al governatore la necessità di trovare in tempi ragionevolmente brevi soluzioni efficaci per consentire l'avvio dell'anno scolastico in un clima di serenità. Sappiamo che la vicenda è stata attenzionata a livello nazionale. Con la regione Abruzzo stiamo cercando di capire quale strada intraprendere e rincare il sindaco. Al momento tutte le ipotesi restano aperte. Sulla reperibilità dei muspi il comune attende risposta e nel frattempo continuo la ricognizione sul patrimonio urbano cittadino per individuare quegli edifici pubblici in grado di ospitare temporaneamente 1.400 studenti di asili elementari e medie. All'incontro di questa mattina erano presenti anche l'assessore regionale e le aree interne Andrea Gerosolimo, l'assessore comunale lavori pubblici Mario Sinibaldi e l'architetto del Genio Civile dell'Aquila Giovanni Mascetta. E ora la vicenda del Denino Morandi di Sulmona. Le spese per il terzo anno consecutivo restano a carico della provincia, lo ha confermato il presidente Antonio De Crescentis. Per i ragionieri e i geometri il prossimo 12 settembre suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico nella sede provvitoria dell'ITIS di Pratola. Per il terzo anno di fila le spese di trasporto da Sulmona a Pratola a Peligna per i ragionieri e geometri iscritti all'istituto Nino Morandi saranno a carico della provincia dell'Aquila. La notizia diffuserà a polo scientifico tecnologico e sarà confermata dal presidente Antonio De Crescentis. Di questi tempi si tratta indubbiamente di una scelta di sacrificio precisa e presidente della provincia, ma non potevamo interrompere quel filo di continuità che abbiamo garantito nel precedente anno scolastico. Sarebbe stato un disagio non indifferente per le famiglie e gli studenti, aggiunge De Crescentis. Dal polo scientifico tecnologico raccomandano a tutti gli studenti di munirsi del libretto personale e delle giustificazioni, valido come titolo di viaggio in caso di controlli. Gli alunni del Denino Morandi sono ospiti dell'ITI di Pratola a Peligna dal 29 ottobre 2014, in seguito al sequestro di un'ala della serie sulmonese per presunti lavori sbagliati post-sisma. Intorno all'edificio di Via D'Andrea in queste ore si è riacceso il dibattito con il preside Massimo Di Paolo, che difende e rimarca la scelta fatta a suo tempo da Consiglio d'Istituto, volta a garantire la sicurezza sismica e la qualità della didattica. Dall'altra parte c'è chi, come il docente Franco D'Amico, pur confermando la scelta lungimirante adottata dalla scuola, sollecita le istituzioni ad accelerare l'iter per il rientro nella sede storica. I tempi non saranno brevi dal momento che bisogna presentare un progetto, stilare un cronoprogramma e nominare il responsabile del procedimento, che si debba definire un percorso chiaro, che abbiano inizio e una fine, ne è convinto l'assessore lavori pubblici del comune di Sulmona, Mario Sinibaldi. Nei giorni scorsi l'assessore microfoni di Onda Tg ha annunciato che l'avvio dei lavori in alcuni plessi scolastici cittadini potrebbe agevolare il rientro dei ragionieri e geometri in città. Il 12 settembre intanto suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico nella sede provvisoria del Liti di Pratola, edificio che in seguito al sisma di Amatrice, discorso che vale anche per le altre scuole di proprietà della provincia, Site, in Valle Peligni e nell'Alto Sangro, non avrebbe riportato vulnerabilità e criticità. Il presidente Antonio De Crescenti si ha fissato per domani un vertice con i tecnici, dove si farà il punto sui controlli eseguiti negli edifici scolastici provinciali. E sulla sicurezza sismica delle scuole batte un colpo l'Associazione Cittadinanza Attiva, che dice no a gare d'appalto al massimo ribasso. Sentiamo meglio nel servizio. Anche l'Associazione Cittadinanza Attiva interviene sulla sicurezza sismica nelle scuole e lo fa con la sua vice segretaria regionale, la sulmonese Maria Grazia Maradei. Al sindaco di Sulmona si chiede di gestire al meglio una situazione così complessa. «È necessario garantire il diritto allo studio ai ragazzi, il diritto al lavoro a docenti e personale scolastico», esordisce Maradei. Con amarezza constatiamo come il progetto della nuova scuola, già finanziato da cinque anni, dormiva in un cassetto. Chiediamo trasparenza su tutto l'itere amministrativo comune, provincia, regione. Sollecitiamo controlli su tutti gli interventi di edilizia scolastica e diciamo no a gare d'appalto. Al massimo ribasso, chiosa la vice segretaria regionale di Cittadinanza Attiva. Spero che nell'incontro dell'otto pomeriggio che il nostro sindaco ha con la regione giungano a una soluzione definitiva. Noi chiediamo trasparenza su tutto l'iter, quindi chiediamo no alle gare al massimo ribasso, chiediamo un controllo sicuro sulle costruzioni e chiediamo la massima disponibilità per eventuali cooperazioni. L'associazione da 14 anni promuove la giornata di sicurezza nelle scuole, diffondendo la cultura dei rischi. Il 76% degli edifici scolastici in Italia sono situati in zona a rischio sismico. Per il primo anno, il prossimo 22 novembre, sarà celebrata la giornata di sicurezza nelle scuole. Velocizzare al massimo i lavori per il nuovo ospedale. Quanto sollecita il Tribunale per i diritti del malato, precisazioni arrivano per quanto riguarda la situazione della sala convenni dell'ospedale. Sentiamo tutto nel servizio. I lavori per il nuovo ospedale devono essere accelerati al massimo, altrimenti non avremo la possibilità di spostare quello che c'è nella Lavecchia. E' ancora una volta il responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, a sollecitare i vertici della Slavezzano-Sumona-L'Aquila, che non pochi giorni fa hanno effettuato un sopralluogo nella zona dell'ospedale, non si cura. Dal TDM arrivano precisazioni sulla vicenda della sala convenni-conferenze, allocata nella Lavecchia del Nosocomio. E' stata fatta perché occorre una sala convenni e in mancanza di quella rischiavamo anche di perdere la formazione, che comunque ci è stato garantito che non andrà via da Sulmona, questo lo voglio ribadire. Al di là della spesa si tratta di poltroncine movibili e non fissate, lo stesso dicasi per la pavimentazione e il legno. Il servizio importante però era la proiezione di interventi in diretta che metteva in comunicazione sala convenni con le sale operatorie, fa notare Facchini che rincara. La responsabilità è di avere nella stessa ala ancora reparti e servizi che non si possono spostare per lo stesso motivo. I lavori dell'ospedale devono essere accelerati al massimo, se no non avremo la possibilità e l'opportunità di spostare quello che c'è nell'ala vecchia, se è vero che dà preoccupazioni, in un'ala nuova di ospedale nuovo. Nelle ultime ore il TDM con la volontaria Franca del Monaco ha fatto il punto sulle battaglie condotte per la salvaguardia e potenziamento di reparti e servizi dell'ospedale, trasferimento del punto nascita dalla Lavecchia, attivazione dello sportello cortesia del CUP e triage al pronto soccorso, promozione della raccolta firme per l'abolizione del super ticket di 10 euro, 3.800 le firme raccolte sul territorio regionale di cui ben 1.100 sul Mona. E poi ancora l'audit civico per il pronto soccorso, 118 e l'Adi, restituzione delle cartelle cliniche prima dei 30 giorni canonici, potenziamento di diabetologia con due dottoresse di cui una scavalco e non per ultimo l'attribuzione dei cibi a proteici. E' in corso il monitoraggio di oncologia per verificare la sussistenza di servizi e caratteristiche fondamentali del reparto, come la presa in carico globale dei pazienti e l'accertamento del numero dei posti letto riservati all'emodialisi. Ora la cronaca, tradito dal tatuaggio sulla mano, arrestato un 26enne di etnia Rom per furto dai carabinieri, rubava portafolli. Sentiamo i particolari. Tradito dal suo tatuaggio sulla mano, i carabinieri della stazione di Sulmona, coordinati dal capitano Florindo Basilico, hanno fermato un 26enne sulmonese di etnia Rom plurirecidivo per furto su autovettura. Il giovane si è reso responsabile di due episodi criminosi risalenti rispettivamente ad aprile e a giugno scorsi. Due furti su auto con l'asportazione del portafolli delle due vittime contenenti in entrambi i casi, oltre a documenti personali, anche le tessere Bancomat. Con queste, sia la prima volta reato perpetrato a Sulmona che la seconda, reato avvenuto a Pacentro, il giovane si è recato presso la rispettiva banca per indebbi di prelievi, rispettivamente per un totale di 490 e 2.000 euro in danno delle due vittime. Sport e le relative denunce presso la stazione dei carabinieri di Sulmona, i militari si sono attivati immediatamente. Ad incastrarlo è stato il tatuaggio a forma di una farfalla che il giovane si è fatto tatuare sulla mano destra, ripreso dalle telecamere, le cui immagini da sole, senza quel particolare, non erano riconducibili all'autore dei reati. Il 26enne, fra l'altro, era già sottoposto in entrambi i casi a misure parzialmente limitative della libertà personale con obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. L'ordinanza da cui si evince la spiccata professionalità dell'autore che le ha consentito una non comune individuazione delle persone offese, nonché l'immediato e reiterato utilizzo fraudolento delle tessere Bancomat appena sottratte, procurandosi un apprezzante profitto illecito prima del blocco della tessera da parte dei titolari, è stata notificata presso il carcere di Pescara dove il giovane si trovava già ristretto in seguito a un arresto eseguito dalla squadra anticrimine del commissariato di Via Sallustio che risale al 17 luglio scorso quando il 26enne fu accusato di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. L'Orso arriva nella periferia di Sulmona e il consigliere comunale Andrea Ramunno promuove un incontro tra gli enti obiettivo tutelare l'Orso e i residenti della zona. Trovare soluzioni che tutelino sia l'Orso sia gli abitanti della zona. Questo il monito del consigliere comunale di Sulmona Andrea Ramunno all'indomani dell'incursione dell'Orso nella periferia della città. Il plantigrado è stato avvistato l'altra notte nella frazione Cavate, prima nelle strade, poi nei terreni dove ha distrutto un pollaio. Giorni addietro aveva fatto un'incursione in quel di Vettorano sul Gizio in una struttura non munita di recinzione, uccidendo sei conilli. Non c'è da allarmarsi poiché ci siamo attivati come comune con gli amministratori limitrofi, enti e associazioni che si occupano di questo fenomeno per arginarlo e permettere in sicurezza abitazioni e pollai dalle incursioni rassicura Ramunno. Sono stati interessati il Parco Maiel e la riserva naturale Monte Genzana con il direttore Mauro Fabrizio, nonché le associazioni come dalla parte dell'Orso, per trovare soluzioni che tutelino sia all'Orso sia agli abitanti della zona. Nei prossimi giorni chiederemo incontri ulteriori alle parti interessate, aggiunge il consigliere, ricordando che sono già disponibili le reti elettrificate per le quali è possibile fare richiesta all'indirizzo dpdorso.gmail.com Contiamo di aumentarne il numero di reti messe a disposizione nei prossimi giorni per soddisfare più richieste possibili. Per quanto riguarda il comportamento da tenere sono disponibili informazioni sui siti dei parchi nazionali e riserve del comprensorio, conclude Ramon. Torna Mamma Sonni d'Oro, sta per ripartire il bus per il Popolo della Notte, proprio che il bus che accompagna i ragazzi il sabato sera a casa. Sentiamo tutto nei servizi. Ripartirà da sabato 24 settembre il bus gratuito per il Popolo della Notte che riaccompagnerà i ragazzi a casa. Il progetto si chiama Mamma Sonni d'Oro 2 e dopo il successo sperimentato nella Marsica è approdato in Valle Pelinia lo scorso 19 dicembre grazie alla passata amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Peppino Ranalli. Un'iniziativa che nasce nel 2008 interamente finanziata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza dei Ministri. Per 30 settimane gli organizzatori avevano individuato sette fermate da Corfinio alle frazioni sul Monesi per placare l'agitazione di tante mamme che, si sa, il sabato sera sono sempre in pensiero. Un progetto però che mira a rilanciare anche la sicurezza stradale tant'è che nello scorso mese di giugno è partita una campagna di sensibilizzazione per i locali di Sulmona e Avezzano. L'attivazione del servizio sarà comunicata nei prossimi giorni. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook di Mamma Sonni d'Oro. Nel frattempo sono mamme, nonni e tanti giovani sulmonesi applaudire all'iniziativa già sperimentata in zona. Una bellissima iniziativa per i ragazzi e possono uscire più tranquilli e avere il mezzo per tornare a casa senza dover far uscire i genitori o andare in motorino o cose pericolose. Sì, il fatto che ci sia un mezzo pubblico che assicuri di rientro fa stare i genitori leggermente più tranquilli. È sicuramente una bellissima iniziativa anche perché così le mamme potranno stare più tranquille sapendo che appunto saranno accompagnati i loro figlioli dopo una serata di baldoria magari a casa. Diagnostica precoce dei tumori sarà questo l'argomento che sarà al centro di una conferenza del dottor Roberto Petrella che si terrà domenica 11 settembre alle ore 18 nella frazione di Bagnaturo presso la sala della residenza di Campania Villa Giovina Country House Hotel dove appunto il dottor Roberto Petrella terrà una conferenza sulla diagnostica precoce dei tumori con particolare attenzione a quelli del seno a partire dall'età di 18 anni. Appuntamento quindi a domenica 11 settembre alle ore 18 nella frazione di Bagnaturo presso il locale di Villa Giovina. Ed ora cambiamo argomento fra poco parleremo della situazione a Palazzo San Francesco a Solmona perché si profila un cambio del segretario comunale come aveva annunciato al momento del suo insediamento il sindaco Anna Maria Casini ma di questo come già detto ce ne occuperemo fra poco parliamo ora della notte templare di Prato-La Pelinia perché questo tuffo questo salto nel basso medioevo è piaciuto a tutti a piccoli e grandi vediamo tutto nel servizio Un'intera città si investira a tema medievale con mercatini, locande e un grande labirinto costruito sfruttando i vicoli del centro storico accogliendo i visitatori giunti da diverse regioni italiane un susseguirsi di eventi iniziative per grandi appiccini dall'animazione offerta dalla compagnia di San Giorgio alle sfilate di dame e cavalieri spettacoli con i falconieri fino agli spettacoli con danzatrici orientali e facchiri ma anche in momenti di approfondimento e dibattito come il convegno sull'alimentazione dei templari che ha visto la partecipazione di importanti esperti in materia rassicurante il bilancio della notte templare di Prato-La Pelinia la tre giorni di tuffo nel basso medioevo organizzata da Flavio Mariani dell'associazione Rievoca in collaborazione con Castrum Pelini e la protezione civile nel corso della manifestazione i visitatori non sono stati semplici spettatori ma si sono catapultati nel medioevo in prima persona codambiti da epoca spade e armature parecchie parecchie persone tutte contente tutti soddisfatti la serata è stata abbastanza bene le presenze sono state sono state molto variegate un po' l'emozione mi giocano brutto scherzo perché diciamo così sentire una persona che viene da Roma dire sono venuto apposta sono partito apposta per venire qui a notte templare tutte le aspettative sono state esaudite anzi sono rimasto anche stupito beh quello riempie normalmente il cuore di tutte quelle persone che stanno lavorando a questa chermessa nel corso del pomeriggio di domenica decine di bambini sono stati arruolati per diventare templari e dopo una breve lezione sui valori di questi cavalieri e la loro storia hanno ricevuto la divisa e si sono cimentati in un divertente duello una manifestazione ludico-educativa che ha fatto divertire migliaia di persone ma anche un'occasione per essere vicino a chi sta passando un momento difficile fa notare Mariani nel corso di notte templare infatti è stata realizzata una raccolta fondi per sostenere Save the Children l'organizzazione dedicata dal 1919 a salvare la vita dei bambini in pericolo e a tutelare i loro diritti e i loro spazi a misura di bambino nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 oltre ai contributi lasciati dei visitatori gli organizzatori hanno deciso di devolvere all'associazione parte del ricavato e ora torniamo a Sulmona per parlare come accennavo alla situazione di Palazzo San Francesco dove si profila un cambio del segretario comunale ce ne parla nel servizio Domenico Berlingeri Detto fatto con l'insediamento dell'amministrazione Casini viene cambiato il segretario generale del comune di Sulmona all'indomani delle elezioni il primo cittadino annunciò la volontà di procedere alla sostituzione di Giampaolo Santopaolo per avere una persona di fiducia a tempo pieno Stiamo dunque valutando questo aspetto naturalmente la figura del segretario comunale sarà una figura chiave perché è la figura che dovrà sostenere con l'amministrazione tutte e anche le scelte amministrative dell'ente Questo è quanto dichiarò il sindaco in una conferenza stampa del 21 giugno scorso ora viene data concretezza alle intenzioni perché sarebbe già stato individuato il nuovo segretario si tratta di Francesca De Camillis 43 anni nata a Larino in provincia di Campobasso proveniente dal comune di Spoltore l'arrivo ufficiale dovrebbe avvenire tra una ventina di giorni per il momento a Palazzo San Francesco vista l'assenza di Santo Paolo l'incarico viene ricoperto da un segretario a scavalco Valerio Brignola lo stesso che fu chiamato nel maggio scorso dal commissario Giuseppe Guetta quando Giampaolo Santo Paolo non rientrò dalle ferie perché si mise in malattia Francesca De Camillis ha prestato servizio anche nei comuni di Montesilvano Martinsicuro con Le Corvino Civitaguana e Salle con il nuovo segretario generale il comune di Sulmona si tinge ancora più di rosa del gentil sesso oltre al primo sindaco donna nella storia del capologo Peligno vi sono anche il presidente del consiglio Katia Di Marzio il vice sindaco Mariella Iommi l'assessore Alessandra Bella e le consigliere Roberta Salvati e Deborah D'Amico dopo le odissee dei segretari generali vissute durante la precedente amministrazione Ranalli ben cinque dopo aver silurato Franca Colella si era giunti a Giampaolo Santo Paolo molto vicino all'ex capogruppo del PD Alessio Di Masci che la nuova amministrazione ha provveduto immediatamente a rimuovere e venerdì alle ore 21 si svolgerà regolarmente la ventiquattresima edizione di Miss Mamma italiana è il concorso dedicato a tutte le mamme dai 25 ai 55 anni l'appuntamento come dicevo alle ore 21 per venerdì 9 settembre nei locali della Gomera di Sulmona è rinviato invece al prossimo 3 gennaio il concerto grosso per Sulmona con i volo libero solidarietà per i terremotati di Amatrice Domenico Berlingeri è stato rinviato al 3 gennaio il concerto grosso per Sulmona con l'esibizione del gruppo volo libero insieme all'orchestra l'evento che era in programma per sabato prossimo 10 settembre al teatro Maria Caniglia viene spostato agli inizi del nuovo anno perché dovrà servire per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal recente terremoto del centro Italia a dare notizia agli organizzatori di dimensione musica Andrea Tella ed Ezio Forzano vista insomma la situazione del sisma verificatosi nell'Italia centrale e allineandoci allo stop delle iniziative che il comune giustamente ha ritenuto di interrompere per via di questo evento abbiamo deciso di spostare questa data al 3 gennaio dedicando questo concerto esclusivamente a fini di solidarietà appuntamento dunque rimandato ai primi giorni del 2017 quando al teatro Caniglia di Sulmona giungerà il volo libero e il modern string orchestra un evento unico nel suo genere con lo straordinario gruppo che seguirà musiche dei New Trolls Battisti Concato Bacaloff Leorm P.F.M Banco del Mutosoccorso De Andrè e Dalla si compone di elementi provenienti da diverse esperienze artistiche che hanno avuto l'idea di ripercorrere le tappe più significative dalla musica d'autore a rock traendo spunto dal concerto grosso per i New Trolls concepito da Luis Bacaloff da qui nasce il concerto grosso per Sulmona di martedì 3 gennaio 2017 al teatro comunale Maria Caniglia il giorno come sempre sarà un concerto sulmona però come raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate in più noi abbiamo pensato di inserire un altro concerto prima di questa data il 2 ottobre del 2016 chiaramente presso il Cinema Teatro Pacifico suonerà il chitarrista Federico Quercia che è direttore dell'Accademia Chitarristica Sulmonese in beneficenza sempre alle popolazioni terremotate suonerà gratuitamente faranno dei brani di chitarra all'opera forse uno dei puoi chitarristi in Italia che porta questo repertorio l'opera rivista in chitarra classica tipo da Verdi a Puccini all'Otello e così via quindi invito tutti a partecipare c'era un ingresso a donazione libera e quindi c'era questo concerto molto importante da 17 presso il Teatro Cina Pacifico del 2 ottobre 2016 non perdete questa sera alle 21.30 l'appuntamento settimanale con la rubrica sociale un occhio per tutti di Onda TV dove si parlerà della scuola primaria dell'infanzia di Pettorano sul Gizio un esempio per la ristrutturazione antisismica una scuola quindi ristrutturata in poco tempo da aprile a ottobre del 2015 riconsegnata poi a dicembre quindi a fine 2015 secondo le regole antisismiche l'appuntamento questa sera alle 21.30 su Onda TV con la rubrica sociale un occhio per tutti ora passiamo allo sport con il calcio perché il Raiano batte il Celano per 3 a 2 nella seconda gara del triangolare F della Coppa Italia di promozione le reti sono state realizzate da Saponar Tiberi e Zapata la squadra di Antinucci affronterà ora il 21 settembre il San Gregorio domani invece si giocherà allo stadio De Marsi di Avezzano la gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia d'eccellenza paterno Nero Stellati all'andata 1 a 0 per i Marsicani quindi ricordiamo che il Raiano ha battuto il Celano per 3 a 2 nella seconda gara del triangolare F della Coppa Italia per quanto riguarda il campionato di promozione ebbene era questa l'ultima notizia noi per questa sera ci fermiamo qui con Onda TV la prossima edizione come sempre domani alle 13.30 grazie per essere rimasti con noi a tutti una buona serata sulla nostra regione condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con annuvolamenti consistenti sul settore orientale dove saranno possibili rovesci anche a carattere temporalesco non si escludono rovesci intensi nel Chietino in particolare nel Vastese e sull'Alto Sangro occasionalmente nel Pescarese tempo instabile anche nella giornata di domani temperature generalmente stazionarie venti moderati dai quadranti nord-orientali specie lungo la fascia costiera mare mosso o molto mosso o molto a o 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 Grazie a tutti.